Non c'è più niente da fare, c'è da fare in esso. Devi fare in esso. Dobbiamo fare in esso. Con tutti, a qualsiasi ora, senza precauzione, nei posti più assurdi. Senza preservarci, non sai essere preservativo. Fai in esso, fai in esso. Chi è che si può operare da un medico sotto anestesia? Un deficiente. Arriva il chirurgo e dice, vuole che la operi sotto anestesia. Ma che sicuresti ti dà? Un primario sotto anestesia. Tu sei lì sul lettino, già peso nel tuo, dovresti entrare con questo. Molti sull'evoluzione dicono, Dio ha un piano. Allora, dobbiamo suonare. È un tema musicale. Per non morire di fame, Dio ha un piano. Credente e non credente. Dice, davanti a Dio gli uomini sono tutti uguali. Ma di fianco? C'è un punto secco dello specchietto. Lo chiamano appunto secco proprio perché i ben pensanti dicono, ci si può sposare, anche se non sia credente, i ben pensanti. I mal pensanti, cioè quelli che vengono dall'aeroporto, i mal pensanti, magari io sono sordo, non vorrei che voi foste stupiti, cosa faccio? Io se avessi un figlio sordo, lo chiamerei in vano. Filippo dice, ma leggo libri. I libri non si leggono. Tra loro. Hanno bisogno di finora. Allora, i libri non si leggono proprio, non si leggono. Dante dice, ho letto la Divina Commedia. Devi scrivere la Divina Commedia, non leggerla. Dante dentro c'ha già tutto.